Il progetto dedicato allo studio di David Cipperfield, l'architetto che si è occupato di presentare il progetto per la riqualificazione e il recupero dell'area ex Santa Chiara. All'interno degli Arsenali Medici a Pisa una mostra con davvero moltissime opere, moltissime realizzazioni di David Cipperfield, una professionalità che ha lasciato le proprie tracce tra la Cina, l'America, il Messico, il Giappone, l'Italia, la Spagna e la Germania. Un'altra grande mostra arriva in città. Questa è una mostra di livello davvero internazionale di un architetto che ormai ha una caratura mondiale, quindi da qui si può vedere il meglio dell'architettura che si fa nel mondo, uno squarcio quindi proprio di carattere globale, lo studio Cipperfield lavora a Londra come a Milano, a Shanghai come a New York, questa è la dimensione. Quindi un confronto anche culturale molto interessante, l'unica mostra italiana quindi sarà il riferimento di grandi attenzioni. Poi ci sono dentro questa mostra anche progetti che riguardano l'Italia e in particolare Pisa, quindi il piano di recupero del Santa Chiara che cominceremo a discutere in questi mesi e che viene realizzato in virtù di un concorso internazionale che Cipperfield ha vinto. E poi il master plan per il Pius, sono due progetti connessi, uno sarà realizzato un po' più avanti quando Santa Chiara sarà liberato, il Pius invece viene realizzato oggi e gode di quella coerenza progettuale che proprio Cipperfield ha dato.